Conosci i tuoi campioni su Sportiva, la scheda del tuo idolo. Giovanni Trapattoni, nato a Cusano Milanino nel 1939, è un personaggio unico nella storia del calcio italiano. Non solo perché ha vinto praticamente tutto da allenatore, ma anche perché è amato da tutte le tifoserie, non solo da quelle in cui ha militato. Milan da giocatore, poi Juventus, Inter, Cagliari, Fiorentina e all'estero Bayern Monaco, Benfica, Stoccarda e Salisburgo. Ovunque abbia allenato, il Trap ha ottenuto trofei, collezionando record su record. Vincitore di almeno un campionato nazionale di prima divisione in quattro paesi diversi, insieme al tedesco Lattec, Trapattoni è l'unico allenatore ad aver vinto le tre principali manifestazioni UEFA per club, unico nel farlo con la stessa squadra, la Juventus. Neanche gli scarsi risultati ottenuti con l'Italia al Mondiale 2002 e all'Europeo 2004 hanno scalfito l'immagine vincente del Trap, che nel corso della carriera ha regalato delle massime che lo hanno reso ancora più popolare.